Il calcio come una volta, Mondo Sport organizza con il patrocinio della Giovane Italia di Paolo Ghisoni e col comune di Pennabilli di Rimini il primo Summer Camp 2019 per età comprese dai 7 ai 16 anni. Due settimane all'insegna del divertimento presso la struttura Albergo Verde di Soanne di Pennabilli a partire dal 23 giugno fino al 7 luglio. Inoltre speciale scuola portieri con l'ex numero 1 del Cesena Stefano Dadina. Info e pre-rotazioni al 339 14 57 624 o mondosportcamp.gmail.com